Sono venuto qui apposta per riconfermare la nostra volontà di rilanciare questa struttura ospedaliera, ci con me il dottore Perri, noi abbiamo assunto gli impegni con i sindaci qualche mese fa che abbiamo mantenuto e che sono appunto in via di realizzazione. Sono previsti interventi per l'area di accoglienza, poi passeremo al pronto soccorso, le sale operatorie, c'è tutta una serie di programmazione per l'ospedale, ma abbiamo riaffidato gli incarichi, abbiamo mantenuto le strutture che c'era il pericolo che potessero essere. Quindi siamo in una fase in cui possiamo ripartire con fiducia e dare dignità a questo ospedale e al territorio che serve in considerazione anche dell'importanza della città di Soverate e del comprensorio che è sede di un turismo importante e che l'ospedale costituisce un tassello importante, ma il Presidente... Sull'attuazione dei LEA però la Calabria è ancora molto indietro? Anzi c'è stata una dichiarazione del Ministro Lorenzin che conferma le nostre preoccupazioni. Io d'altronde avevo già avuto modo di incontrarmi con Lorenzin, di esprimere quelle che sono le nostre preoccupazioni circa i ritardi che registra la Calabria sia per quanto riguarda i LEA sia per quanto riguarda il superamento di una condizione per cui i calabresi sono costretti in grande numero ad andare a ricorrere fuori dalla Calabria per la cura e la tutela della propria salute, le liste d'attesa. Noi siamo a sei anni da una gestione commissariale che non ha assortito i risultati per i quali era stata appunto istituita. La Lorenzin oggi conferma tutto ciò, c'è qualche passo in avanti per quanto riguarda i conti, ma assolutamente come dire al di sotto di quelle che sono le necessità e i bisogni di una Regione che ancora appunto si vede privata del diritto alla tutela della salute e alla pari delle altre regioni. Ho constatato che appunto il Ministro con grande onestà ha confermato quelle che sono le nostre preoccupazioni, preoccupazioni che ci inducono ancora a sollecitare una correzione di rotta da parte del Governo perché ci metta nelle condizioni di costruire un sistema sanitario qualificato che recuperi la fiducia dei calabresi e che soprattutto sul piano delle prestazioni sanitarie si ponga all'altezza delle esigenze e dei bisogni della Calabria ponendo la Calabria allo stesso livello delle altre regioni più avanzate del Paese. Mentre per quanto riguarda la nuova programmazione di questo territorio del Basso Ionio in cosa consiste? Un territorio che lamenta dei concreti bisogni ancora? Il dottore Perri ha ricordato prima gli impegni che sono stati assunti e che sono in corso di realizzazione per quanto riguarda la struttura ospedaliera di Soverato. Una struttura ospedaliera che serve un comprensorio importante della nostra regione sia per la popolazione sia perché in modo particolare nei mesi estivi la popolazione aumenta in modo esponenziale per la presenza turistica e la presenza di una struttura ospedaliere di servizi sanitari adeguati non sono altro rispetto anche alla possibilità di consolidare questa domanda turistica perché oggi il turista si muove tenendo conto di quello che è il quadro dei servizi a partire dai servizi sanitari, dalla sicurezza che un territorio dà in termini di servizi sanitari. Quindi il nostro obiettivo di potenziamento di questa struttura muove da due ragioni. In primo luogo dalle garanzie che bisogna dare ai cittadini residenti a Soverato nel comprensorio e l'altra seconda ragione è quella di rendere sicuro il territorio anche per renderlo più attrattivo dal punto di vista turistico considerate le bellezze di questo comprensorio il mare, la montagna, un patrimonio di beni culturali che offre, tradizioni, gastronomia ecc. e naturalmente c'è il problema dei servizi territoriali in senso più vasto, più lato e noi riteniamo che proprio su questo c'è stato un forte deficit da parte della gestione commissariale. Grazie. 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 Grazie.